Vangelo del giorno, domenica 17 settembre 2023, ventiquattresima domenica del tempo ordinario anno A. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, ma non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo di Don Fabio Rosini. Ventiquattresima domenica del tempo ordinario. Siamo nel tema del perdono, nel tema del rimettere le colpe, i debiti dei fratelli. Così la prima lettura ci dice nel testo meraviglioso del libro del Siracide e così noi siamo instradati a meditare dal capitolo diciottesimo del Vangelo di Matteo. C'è una domanda che Pietro fa a Gesù. Ma quante volte devo perdonare un fratello e mette un limite di sette volte che non è un piccolo limite? Il problema è, ma esiste un limite al perdono. Esiste la volta in cui perdonare è sbagliato? Esiste la volta in cui bisogna dire no, questo è troppo? Ecco, la domanda è molto seria, molto più di quanto un facile sentimentalismo potrebbe portarci a dire, ovvero sia dire no, non c'è limite. La realtà è qual è il tema. Il tema del perdono, che tema è? Noi dobbiamo partire dal fatto che Gesù per spiegare questo tema ci mette di fronte a un uomo che deve diecimila talenti al suo padrone e viene sollevato da questo mostruoso debito, perché in termini reali è spaventoso come debito, e questo non rimette il debito invece a chi gli doveva cento denari, che è una cosa molto più ordinaria, molto più fattibile. Ecco, qual è il problema di questo uomo e qual è il problema del perdono così come viene impostato molte volte nei Vangeli? A nostro riguardo è il tema del non stare davanti alla vita come chi è un creditore. Infatti il Padre nostro non ci dice una cosa diversa, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Parte per dare la luce del perdono dal fatto di essere in stato di debito con Dio. I padri della Chiesa su questo testo dicono delle cose importantissime che sono sempre molto valide, ovvero sia, ma chi non è in debito? Chi non è in debito rispetto a quello che lo circonda? Siamo tutti gli uomini e le donne che dovremmo essere? Non siamo in debito forse con la natura, con la realtà, con Dio, con la nostra storia, con la nostra intelligenza, non siamo in debito con tutti quelli che ci circondano a cui forse potremmo dare più amore. Veramente tutti siamo con i conti in regola rispetto a qualcosa? No, se siamo nella verità nessuno di noi è altro che un debitore. Come ragiona invece questo servo ingrato? Lui guarda l'altro non da debitore ma da creditore, non ricorda il suo rapporto con Dio, col padrone ossia, ma guarda il rapporto orizzontalmente. Tu mi devi 100 denari, 100 denari mi devi dare, punto. Questo è il punto. Ed è qui il problema, l'ascissione delle due dimensioni. da una parte ci sta il rapporto con Dio e io in quello, insomma, non posso fare che dire sono un debitore. E dall'altra parte c'è il rapporto con i fratelli in cui io sono quello che sono. Il problema è che noi non siamo scissi, non siamo due persone. O siamo ciò che siamo sia con Dio che con i fratelli o se possiamo fare a compartimenti stagno una separazione non sappiamo veramente che cosa è il nostro rapporto con Dio. Perché nessuno può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello che vede. Il nocciolo del discorso è che il rapporto con i debiti altrui passa per il nostro rapporto con Dio. Il problema della colpa altrui che può essere oggettivamente molto grande, non si illumina in una relazione frontale io e l'altro, ma si illumina dal mio rapporto con Dio, io con Dio. Non posso che essere un debitore, non posso che essere grato per come mi tratta, per quanto è generoso. Da quella gratitudine, da quella memoria di misericordia viene la luce per guardare ai conti in sospeso con i nostri fratelli. A noi non conviene di dire basta ti ho perdonato troppo perché non possiamo permetterci che il padrone di questa parabola dica allora paga un po' i tuoi debiti, vediamo un po' che fai se ti faccio pagare i tuoi debiti, vai. Sarai gettato in prigione tu con tua moglie, i tuoi figli e tutto quello che dovevi dare. Ecco, il problema è non cadere in questa logica. Infatti, se noi andiamo bene a vedere, gli angeli dicono datevi sarà dato, con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E dice la più semplice perché perfettamente coerente delle beatitudini, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Vuol dire che la cercano, vuol dire che ne hanno bisogno. È chiaro che veniamo dalla domenica in cui c'è la chiamata alla correzione fraterna. Non si tratta di fare una situazione da condono edilizio, cioè basta, lasciamo perdere, non conta niente. No, si tratta di prenderci cura gli uni degli altri, ma a partire dalla gratitudine, a partire da una intuizione nitida del fatto che non ci possiamo permettere di dire a qualcuno tu sei imperdonabile perché un minuto dopo lo siamo anche noi imperdonabili. Perché Dio solo sa perché un uomo fa i suoi errori. Dio solo sa perché una persona si comporta come si comporta e lasciamo a Dio questa decisione, questo discrimine, questo discernimento per l'appunto. Allora il Padre mio Celeste, dice Gesù, non può che fare così se voi non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello, cioè così come. Come fa questo padrone che dà in mano agli cuczini questo suo debitore? Ecco, questo discorso qui è un discorso molto importante, cioè noi abbiamo a che fare con una intuizione di Dio che non possiamo permettere che divenga a speculare alla nostra implacabilità. Non possiamo permetterci di essere sotto un cielo inabitato da un enorme creditore rispetto a tutti. Abbiamo bisogno di vivere sotto lo sguardo di un Padre, di uno che starà sempre e comunque dalla parte nostra, dalla parte di chi, anzi, sappiamo che ci perdona perché noi perdoniamo, sappiamo che rimette i nostri debiti perché noi possiamo rimettere i debiti ai fratelli. Godiamoci la misericordia di Dio, ne abbiamo tutti tanto bisogno e se abbiamo occasione di rimettere i debiti dei fratelli, non fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette, entriamo nella gioia del padrone, che è la gioia di chi ama sempre e comunque i propri figli. Pensieri per il Vangelo di oggi. Il perdono attesta che nel mondo è presente l'amore più potente del peccato. San Giovanni Paolo II. Dinnanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. Francesco. È lì, infatti, nella profondità del cuore che tutto si lega e si scioglie. Non è il nostro potere non sentire più e dimenticare l'offesa, ma il cuore che si offre allo Spirito Santo tramuta la ferita in compassione e purifica la memoria trasformando l'offesa in intercessione. Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2843 Se questo video ti è stato utile ti chiedo di iscriverti al canale, mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto. Grazie a tutti.